Buongiorno, come sapete quest'anno il tema su cui si sviluppa il primo maggio sia al concerto qui del pomeriggio sia alla manifestazione politica la mattina e a Prato con i cominci di direi generali il tema della sicurezza sul lavoro. Credo che noi dobbiamo superare una grande contraddizione italiana, noi abbiamo una legislazione buona e contemporaneamente il primo anno delle morti sul lavoro, quindi c'è qualcosa che non funziona dentro questa partita. Sapete che tra l'altro le statistiche sono molto in ribasso perché molte non sono denunciate, molti infortuni non vengono denunciati, noi abbiamo 16 milioni di assicurazioni assicurati in AIM a fronte di 23 milioni di posizioni aperte dall'Inps, quindi c'è qualcosa di nuovo dentro questo discorso. Ovviamente incide molto, ci sono circa due morti al giorno e questo è una cosa che non si può uscire da casa per andare a lavorare e poi non rientrarci, insomma credo che non spugna a nessuno l'importanza e l'attenzione su questo tema. Io non vi riusco molto molto tempo, credo che sia importante riflettere su questa questione, credo che sia un fatto di tutt'ora, si fa poca informazione, poca formazione e quindi poca prevenzione. non possiamo, è un fatto culturale, è un fatto della cultura sulla prevenzione e sul lavoro, credo che da questo punto di vista la stampa possa essere di estremo aiuto e quindi questo è il tema per quanto ci riguarda. Sul concerto mi sembra che il cast di quest'anno sia, mi mi dicono abbastanza interessante per non dire buono, quindi questo è l'organizzazione, il cast che è stato smestito è sicuramente di livello e quindi grazie a Massimo e al suo staff per l'impegno che ci hanno messo, un grazie anche alla RAI per il supporto che ci è stato fornito sia in termini della conduzione, dall'apparato tecnico e quant'altro e un grazie a due persone che non so se sono arrivate, però non vedo, quindi mi restano ancora. Questo è uno dei più grandi eventi musicali, io lo seguo da qualche giorno, non è mai successo, ma vedo che questo sia merito soprattutto di chi cura tutto l'allestimento di Giulio Stambaratano, che è Massimo Comelli di ADC, che è Massimo Carvanti di ADC e anche per la sicurezza Maurizio Meloni che cura la sicurezza. credo che il loro operato abbia ricevuto, non può, ma il successo di questa manifestazione che piaccia o non piaccia, io continuo a chiamarlo il concertone, essendo un vecchio sindacalista quindi sono conservatore, preferisco chiamarlo il concertone per quello che in effetti è, grazie. Grazie Allora, diamo la parola, da te con me abbiamo la parola tanta adesso, direi, così invezziamo più Grazie Grazie Grazie